Avete mai desiderato acquistare un robottino aspirapolvere che potesse darvi una mano con le pulizie domestiche? Ma i costi a volte esorbitanti vi hanno fatto sempre desistere dall'acquisto? Beh, in questa scatola anche abbastanza anonima ne abbiamo uno che potrebbe fare al caso vostro venduto su Amazon pensate un po' per circa 200 euro a un coupon di sconto che si può applicare direttamente sul sito di Amazon prima di metterlo nel carrello di quasi 50% e quindi costa all'incirca 100 euro naturalmente non potevamo perdere l'occasione di provarlo assieme a voi e quindi procediamo all'unboxing così poi lo mostro e vi parlo un po' delle sue caratteristiche tecniche che non sono niente male Naturalmente, carissimi amici, questo è un modello con il quale sappiamo bene di dover scendere un po' a compromessi non è uno dei modelli più tecnologici e nemmeno avremmo mai pensato di ricevere un modello di quel tipo per questo prezzo per il prezzo al quale viene offerto però per circa 100 euro abbiamo comunque un mini aspirapolvere che intanto si può connettere alle assistenti vocali ha una sua app con la quale possiamo controllare la mappatura di casa poi abbiamo un bel 2500 pascal di potenza di aspirazione dimensioni abbastanza compatte eccolo qui un serbatoio per la polvere circa 500 ml un design anche molto pulito e moderno vedete insomma è alla fine anche un bel aspirapolvere guardiamolo nella parte sottostante vedete lui non ha il rullo questo potrebbe essere un po' un pro e potrebbe essere anche un contro in quanto se abbiamo degli animali domestici in casa così come ce li abbiamo qui io e Stefania il non avere un rullo potrebbe essere un pro in quanto i pelli non si vanno e i capelli anche non si vanno ad aggrovigliare all'interno del rullo ma vanno direttamente aspirati da questa bocchetta qui abbiamo i due attacchi per le spazzoline eccole qui che adesso andremo a montare una semplice basetta di ricarica naturalmente lui non è autosuotante ragazzi abbiamo il suo serbatoio da andare a svuotare manualmente ma tutto questo lo andremo a vedere fra poco intanto montiamo le spazzoline il tutto risulta estremamente semplice le spazzoline si montano a pressione in questo modo qui vedete lui adesso è pronto all'uso andiamo a spellicolare la parte anteriore qui non abbiamo telecamere e non abbiamo tecnologie come il radar lidar superiore quindi la sua tecnologia è molto semplice ha dei programmi preimpostati che lo faranno girovagare per la stanza programmi che comunque noi possiamo andare anche a scegliere dall'app perché noi potremmo scegliere di farlo iniziare da un punto fisso quindi la funzione spot potremmo decidere di farlo andare un po' a zig zag oppure casualmente per la casa lui può tranquillamente andare vedete alle ruote ammortizzate quindi lui può tranquillamente superare alcuni ostacoli può andare ad aspirare sopra i tappeti e da sua altezza dovrebbe consentirli anche di passare attraverso dei mobili non troppo bassi ed anche sotto il letto all'interno della confezione non mancano i ricambi come le due spazzoline rotanti in più oltre a quelle che abbiamo già montato un'altra spazzolina per pulire le parti un po' più piccole un po' più nascoste compresa anche un mini taglierino un secondo filtro dell'aria in cartone alimentatore per la basetta che andrà anche a ricaricare la batteria integrata che tra l'altro dovrebbe garantire 120 minuti di autonomia e la piccola basetta abbastanza compatta andiamo anche questa a spellicolare basetta che andremo a posizionare immediatamente perché metteremo subito a ricaricare il nostro robottino perché poi lo metteremo a dura prova facendolo passare dappertutto sui tappeti, sul pavimento facendoli aspirare briciole, zucchero, farina ed anche bei ciuffetti di pelle animali dei nostri gatti mentre lui andrà a ricaricare le batterie voglio mostrarvi come si può aprire lo sportellino superiore vedete è tutto molto semplice qui troviamo il QR code per andare ad installare l'app il tasto di accensione 1 e 0 quindi on e off e più questo è il filtro da 500 ml per la polvere dove andremo a trovare un filtro di carta che è stato già montato come vi dicevo in confezione troviamo anche un ricambio qui in basso possiamo vedere esserci direttamente vedete il foro per l'aspirazione perché andrà direttamente la polvere a finire dentro questo filtro mentre la batteria è integrata all'interno del corpo del robot quindi sia la manutenzione che la pulizia è veramente super semplice questo è sicuramente un bel punto a favore e mentre lui termina il suo ciclo di ricarica io voglio approfittare di questo tempo per mostrarvi l'applicazione sviluppata da OKP un'applicazione veramente semplice ed intuitiva una volta registrati sull'applicazione bisognerà solamente attivare il drone e attivare il bluetooth insomma ed effettuare il peric quindi aggiungere il dispositivo alla nostra app rinominarlo in questo caso noi l'abbiamo chiamato ambrogio e come potete vedere in alto a destra vedremo la percentuale della batteria potremo accedere alle opzioni e poi abbiamo subito il flusso di lavoro cioè farlo iniziare a pulire oppure dirgli di tornare in ricarica una particolarità di questa app è che ognuno all'interno del nucleo familiare può installarla registrarsi nell'app e quindi far parte appunto del nucleo familiare quindi andare ad aggiungere i vari dispositivi in modo tale che chiunque all'interno della famiglia possa utilizzare la flotta dei robottini immaginate per esempio una casa suddivisa su più piani dove ognuno ha il suo robot e tutti hanno l'accesso al robot e poterlo quindi utilizzare o poterli utilizzare se ne abbiamo più di uno infatti potete vedere possiamo aggiungere vari dispositivi nel nostro caso abbiamo questo che è il K5 possiamo anche creare più ambienti vedete in alto a sinistra abbiamo casa ma potremmo creare vari ambienti totalmente diversi al centro abbiamo le informazioni di notifica e appunto gli inviti familiari a destra invece c'è la parte dedicata al proprio account tornando nella pagina principale cliccando su accedi l'applicazione si andrà a collegare al robottino questo riquadro bianco che vedete al centro in realtà sarà la mappatura della stanza o della casa che però viene visualizzata solamente quando il robot è in funzione infatti quando lui tornerà nella stazione di ricarica questa mappatura si andrà completamente a resettare quindi non abbiamo la possibilità di avere una mappatura fissa di casa non potremmo andare mai a dire al robottino vai a pulire quell'ambiente specifico quella stanza specifica perché come abbiamo visto e vedrete dopo quando il robottino sarà in funzione la mappatura sarà azzerata sempre infatti lui adesso sta visualizzando il tempo di pulizia 0 minuti e aria di pulizia 0 metri quadrati quando in realtà abbiamo già effettuato qualche prova e quindi non rimane nello storico della memoria come opzione la prima opzione che troviamo è la modalità di lavoro attuale e cioè vedete abbiamo la pianificazione cioè una pulizia fatta in maniera un po' a zig zag insomma così dove lui cerca di seguire un filologico naturalmente si troverà degli ostacoli poi proverà ad evitarli abbiamo come seconda opzione una pulizia di casa in maniera totalmente casuale una pulizia lungo le pareti dove lui cercherà di seguire un contorno delle stanze e poi una pulizia spot quindi sui punti fissi che è quella tra l'altro che andremo a provare adesso che andremo a dire al robottino di fare la nostra prova con briciole, farina, zucchero e quant'altro dopodiché abbiamo le varie opzioni cioè far partire la pulizia, tornare alla stazione di ricarica modalità standard o modalità potente come vediamo modalità silenziose quindi abbiamo tre tipologie di forza che noi chiediamo al motore di utilizzare un'opzione per cercare il robot, se la casa è grande e non troviamo più il robot magari è andato a finire sotto il letto e si è incastrato e non lo troviamo più questo farà in modo che il robot metta un suono e lo potremo andare a trovare la pianificazione con il timer abbiamo una modalità telecomando che andremo a provare anche che ci permetterà di comandare manualmente il robot e dirgli dove andare aggiornamento del firmware, possiamo fare l'aggiornamento direttamente online via OTA con la sua applicazione e poi una configurazione dove abbiamo il numero di serie, il nome del robot il percorso che ha fatto, la rete di casa e in più un'opzione molto importante c'è quella del potenziamento del tappeto cioè fare in modo che quando il robot riconosce di essere salito su un tappeto la potenza di aspirazione vada automaticamente ad aumentare in modo tale da andare a pulire in maniera molto più approfondita bene adesso direi di spargere un po' di schifezze sul pavimento e fare il nostro test di pulizia bene adesso iniziamo il nostro test di pulizia come potete vedere a terra abbiamo messo un po' di farina un po' di brice di biscotti, un po' di zucchero e anche qualche pelo del nostro gatto io direi adesso di iniziare facendo partire la modalità di pulizia e passiamo al controllo manuale quindi la modalità telecomando in modo tale da direzionarlo manualmente e dopo averlo posizionato nei pressi dello sporco iniziamo una pulizia a punti ed una volta iniziata la pulizia in modalità spot con la sua programmazione spot vedete lui inizierà ad effettuare questi cerchi concentrandosi quindi sulla zona che noi li abbiamo indicato ed ecco che intanto inizia con i peli del gatto con le sue spazzo le ha portate un po' a spasso la farina ma naturalmente deve effettuare molti altri passaggi ecco che ruota vedete le sue spazzoline provano a convogliare tutto lo sporco e ne abbiamo messo abbastanza verso il centro del robot dove c'è il motorino di aspirazione naturalmente la farina è il compito più arduo che le abbiamo affidato e lui continua in perterrito nel suo lavoro pian piano lui passa sempre sugli stessi punti vedete fino a pulire tutto e mentre lui continua con le sue pulizie in modalità standard possiamo trarre qualche conclusione innanzitutto direi che la farina è stato un po' il suo tallone d'achille perché le spazzoline unite al vento generato dal motore di aspirazione l'hanno sparsa un po' ovunque e lui ha dovuto effettuare veramente vari passaggi prima di togliere il grosso dello sporco ma come possiamo vedere qualche residuo c'è ancora come possiamo vedere lui riconosce gli ostacoli e cerca di pulire in maniera approfondita anche negli angoli grazie alle due spazzoline che ha poste sui lati noi adesso aspettiamo che lui termini di effettuare le sue pulizie in modo tale da vedere quanti residui resteranno sul pavimento nel frattempo potete vedere sull'app che lui ha iniziato la mappatura come dicevo la mappatura che poi verrà resettata quando lui tornerà in ricarica la batteria durante le nostre prove vedete è scesa di circa il 13% il 15% ma lo stiamo utilizzando alla modalità di aspirazione massima e come possiamo vedere adesso sta passando sotto il mobile vedete la sua altezza gli consente di potersi muovere agevolmente anche sotto i mobili sotto i letti di casa mettiamolo adesso alla prova facendolo salire sul tappeto facendogli fare una pulizia veloce come possiamo vedere non si incastra all'interno delle frange e lui aumenta anche il potere di aspirazione naturalmente il suo movimento è sempre totalmente random però vediamo che non si incastra non si impunta e non ha alcun problema durante la pulizia dei tappeti adesso mettiamo in pausa manualmente la pulizia e gli diciamo di tornare alla stazione di ricarica a questo punto lui dovrebbe ricevere il segnale radio della stazione rientrare e andiamo a verificare in che condizioni è il serbatoio della polvere ed ecco che si è avvicinato alla stazione di ricarica l'ha riconosciuta ha fatto una manovra prendendola un po' alla larga per mettersi dritto e si sta andando a posizionare in ricarica una volta che lui ricarica possiamo aprire lo sportellino andare a controllare il serbatoio di raccolta della polvere dove vedete troviamo sia i peli degli animali lo zucchero, la farina ed anche le briciole andiamo a vedere adesso come svuotare il contenitore di raccolta della polvere vedete c'è questo gancetto basta spingerlo in fuori ed ecco l'accesso alla polvere e a tutto quello che il robottino ha raccolto su questo sportellino invece c'è il filtro in cartone che può essere sostituito alla base troviamo questo sportellino vedete che è immobile che serve a non far fuoriuscire la polvere dal tubo di aspirazione quando il robottino è spento quindi si apre con il motore acceso e vedete si va a richiudere automaticamente quando il robottino è spento questo evita durante il trasporto di far fuoriuscire il materiale naturalmente se lo muoviamo questo si andrà ad aprire quindi fate un po' di attenzione quando andate a svuotare il contenitore ed eccoci rientrati in studio mentre il nostro ambrogio continua con le sue pulizie di casa naturalmente il K5 di OKP che abbiamo testato oggi non è sicuramente il più performante della gamma come vi dicevo la mancanza del rullo sottostante che aiuta un po' il motore di aspirazione è un po' un'arma a doppio taglio cioè è vero che non abbiamo peli o capelli che andranno ad aggrovigliarsi attorno alla spazzola ma è pur vero che il robottino unito ai soli 2500 pascal di potenza di aspirazione fa un po' fatica con le parti più piccole come erano appunto i granelli della farina che ha sparso un po' per casa che non è riuscito a raccogliere dobbiamo invece ammettere che si è comportato benissimo sia con i peli degli animali sia con le briciole tutti quei residui di sporco un po' più grossi che sono stati raccolti in maniera perfetta all'interno del serbatoio serbatoio che tra l'altro di vista è molto facile da smontare molto facile da suotare e soprattutto da pulire quindi tutta la manutenzione di questo robottino è molto semplice l'autonomia l'ho trovata molto buona così come molto buona è la silenziosità ed anche la maniera che ha di districarsi attraverso gli ostacoli salire e scendere dal tappeto non si è mai inceppato e l'unica volta che si è un po' trovato in difficoltà cercando di superare il cavo di un ventilatore ecco lui si è spento ha azionato i motori delle ruote ha superato il cavo ed è tornato a lavorare tranquillamente quindi non si è mai inceppato durante il nostro provo se andiamo a considerare il prezzo con preso coupon di circa 100 euro è sicuramente un aiuto che potremmo inserire all'interno delle nostre abitazioni oppure all'interno della casa di campagna o casa vacanza la casa al mare insomma ci troviamo sempre in questi periodi dell'anno dove siamo pronti per andare in vacanza e questo potrebbe essere sicuramente un aiuto mentre noi siamo magari al mare lui è lì che effettua un po' di pulizie a casa e ci dà sicuramente una mano naturalmente ragazzi nel box in descrizione vi lascio il link alla gamma di OKP se volete andare a verificare le caratteristiche tecniche e i prezzi e naturalmente vi ricordo anche di iscrivervi al canale e non dimenticando di cliccare sulla notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video e naturalmente ragazzi visitate tutte le altre pagine social e unitevi anche a quelle perché lì andiamo a postare le anteprime e gli unboxing dei prodotti che poi andremo a provare sul canale se avete qualsiasi domanda su questo robottino che abbiamo provato oggi fatela qui sotto il box dei commenti e vi risponderò nel più breve tempo possibile nel frattempo vi auguro buon proseguimento di giornata buon proseguimento qui su YouTube e un mega abbraccio dal vostro Bruno